Ciao Dani! Ciao! Finalmente oggi proviamo iDoo3D, che non vedevi l'ora di provarlo ogni volta che lo vedevi in televisione Mamma guarda cosa c'è, mamma guarda cosa c'è! Eccolo, guarda cosa c'è adesso sul tavolo iDoo3D! Sei contento? Moltissimissimissimissimissimo, 100% Allora abbiamo aperto, già perché così abbiamo risparmiato la parte noiosa dove apriamo e dentro cosa c'era? Allora, delle istruzioni, dei progetti, delle penne, quelle penne insomma per disegnare il 3D la torcia a raggi UV e poi vediamo se ho dimenticato qualcosa nella scatola oh mamma ho dimenticato qualcosa nella scatola, c'era anche una bambina ma è una bambina in 3D! Poi ci sono questi fogli di plastica, questo serve per fare i disegni piatti 2D, questi invece per fare delle parti, non so se ci serve da fare delle curve un po' gonfie, un po' gonfie, bravo! Oh, scordata, accesa! Ecco, benissimo, allora si può disegnare come uno vuole oppure seguire per esempio un progetto come il progetto dell'unicorno che cosa ti dice di fare? Di ricalcare semplicemente mettendo il foglio di plastica sopra di disegno si ricalca e poi si montano tutte le varie parti allora io direi di provare a fare proprio questo visto che non siamo ancora bravi che dici Daniel? Se proviamo prima prima proviamo a fare un progetto di questi qua e poi dopo ce ne inventiamo uno tutto nostro ok, ok, a domani? no, a domani, a dopo adesso lo facciamo perché mi servono le mani libere e lo faccio, quindi poi ci rivediamo col video ciao ciao! allora, ho iniziato questo progetto ho deciso di non fare l'unicorno perché avevo paura che non mi venisse bene e ho provato a iniziare la farfalla che mi sembra quella più facile quindi ho ricalcato questa prima parte dal foglio come vedete adesso con la penna con la torcia lo faccio indurire qualche secondo ok, vediamo un po' se si staccano sono ancora un po' morbidi questi mettiamoli un altro po' che ci sono ancora un po' e si stacca e così li stacco piano piano tutti dopodiché applicando una piccola quantità dell'inchiostro su questo pezzo principale si attaccano gli altri formando quindi il corpo della farfalla non mi è venuto benissimo, posso fare di meglio però vedete che si sono attaccati i pezzi adesso faccio le ali, a dopo ho fatto le ali e ora le faccio asciugare ci ho già messo il corpo sopra così il corpo si attaccherà alle ali adesso con le ali non sembra più tanto brutto asciugati asciugati farfallina poi dopo mancano soltanto le antenne e è finita ed ecco qui la nostra prima creazione una farfalla Dani mi fai vedere come vola? com'è? resistente? si resistente prova un po' a buttarla dall'alto adesso puoi provare a fare quello che vuoi tu Dani vediamo cosa ti inventi dammi il foglio ok aspetta volevo farla vedere un po' grazie mamma bellissima beh questo è stato il nostro primo esperimento con i tu 3D mi sembra una cosa simpatica, carina però ecco bisogna prenderci un po' la mano perché non è proprio come disegnare con un pennarello normale devi ricordarti di spingere la pancia del pennarello però secondo me qua ci sono margini di miglioramento e questa farfallina mi piace come è venuta proverò a fare anche l'unicorno e poi magari mi invento qualcosa Daniel mi fai vedere cosa hai fatto con le tue manine con quella penna 3D? allora questo blu sono io e questa qua da lì è tornata e questa, e questa, e questa, e questa bambina che si chiama Alissa e quella lì è rosa, e quella rosa è Alissa? si, e questa è la mia sorellina Alissa non toccare questo Alissa è pure mezzo rotto allora ti sei divertito a giocarci? e stavolta bene allora alla prossima ciao 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 ciao